domani e venerdì 28 febbraio la chiesa fa memoria del beato timoteo le previsioni del tempo di tele nuova benvenuti correnti occidentali instabili e relativamente fredde porteranno nubi diffuse piogge sparse su buona parte delle regioni tirreniche e via via verso il nord ad iniziare dal nord ovest anche con locali nevicate a quote mediamente comprese tra i 700 e i millimetri al nord tra gli 800 e i mille due al centro sud per la serata e la nottata si scava una bassa pressione sulle aree centrosettentrionali con l'arrivo della parte più intensa della perturbazione piogge rovesci più forti al nord soprattutto sulle aree tirreniche nevicate abbondanti intorno ai 400 700 metri al nord tra 800 e 1.200 sulle regioni tirreniche e appenniniche occidentali tempo più asciutto sulle regioni adriatiche la pressione atmosferica è prevista in lieve aumento contestualmente all'arrivo di aria meno umida in alta quota che garantirà un temporaneo miglioramento sulla nostra regione nel corso della giornata si avvicinerà però una nuova perturbazione dunque sulla campania domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite ma nel corso della giornata arriveranno da ovest addensamenti nuvolosi con piogge le temperature saranno in calo con venti moderati da ovest mentre il mare sarà mosso grazie a tutti